A Roseto degli Abruzzi sono cinque candidati che correranno la carica di primo cittadino. Per il centro-sinistra ha deciso di correre per un secondo mandato il sindaco uscente Sabatino di Girolamo, appoggiato da Partito Democratico, uniti per Roseto e di Girolamo sindaco. Vicini a lui anche l'ex sindaco per dieci anni Franco di Bonaventura e l'ex assessore Enzo Frattari. Il centro-destra ha unito e compatto sul candidato sindaco William Di Marco dopo che la Lega che a Roseto ha come uomo forte il deputato Giuseppe Bellachioma, ex coordinatore regionale del partito, ha bocciato la prima ipotesi di candidato sindaco, quella di Alessandro Rechiuti, vicepresidente della provincia di Teramo, consigliere comunale uscente e fondatore dell'associazione Il Punto. Di Marco è appoggiato da quattro liste, Lega, Fratelli Italia, Forza Italia, Identità Culturale Rosetana per William Di Marco sindaco. Tra i primi ad annunciare la sua candidatura anche Tommaso Ginobile, ex assessore regionale della giunta di Ottaviano del Turco, ex deputato del Partito Democratico ora tra le fili di Tagliaviva, che può contare con ogni probabilità sull'appoggio di volti noti della politica terramana, come l'ex assessore regionale di Forza Italia Paolo Gatti, ma anche da vari esponenti di peso di aria centrodestra, legati da tempo a Ginobili e lo stesso Gatti. Quattro è lista in appoggio, Ginobili sindaco, Roseto attiva per Ginobili e per Roseto con Ginobili e Bella Roseto con Ginobili. Rosaria Ciancaione è la candidata sindaco della lista Libera Coalizione Progressiva, sostenuta dal Movimento 5 Stelle 2050, d'Europa Verde e dalle liste civiche, un'altra idea di Roseto 21.0 e Roseto progressista e coraggiosa. Infine in campo anche Mario Nugnes della lista civica Spazio Civico, appoggiato da un altro big di Roseto l'ex parlamentare Giulio Sottanelli, ex deputato di scelta civica, ora coordinatore regionale di azione, il partito dell'ex ministro dello sviluppo economico europarlamentare Carlo Calenda, appoggiato anche dall'ex sindaco socialista Enio Pavone. Lugnes appoggiato da Roseto in azione, Under, Nuove Energie per Roseto, Operazione Turismo, Casa Civica, Alta Città e Volt, Sport e Civismo e Fare per Roseto con Pavone e Marcone. Ufficializzati i candidati alle liste, ora la palla passa ai cittadini rosetani, che i prossimi 3 e 4 ottobre si regheranno alle urne per scegliere il prossimo primo cittadino, anche se sarà difficile, se non impossibile, individuarlo al primo turno, visto i 5 aspiranti alla carica di sindaco.